Rosalinda, Cannavo e Andreano condiviso oggi un video emozionante della festa di benvenuto organizzata per l'arrivo a casa della loro piccola Camilla. Dopo aver portato la neonata a casa, la coppia ha ricevuto una sorpresa speciale, un'accoglienza con palloncini rosa e bianchi, organizzati da una cara amica esperta nell'allestimento di eventi. La decorazione impeccabile era accompagnata da dolcetti a forma di orsacchiotto, un tocco tenero e affettuoso per celebrare questo momento indimenticabile. Alla festa erano presenti anche i nonni, che hanno calorosamente accolto Rosalinda, Andrea e la piccola Camilla. Rosalinda ha iniziato a condividere sui social diversi momenti di questa nuova fase della sua vita, documentando l'arrivo della bambina e i primi giorni a casa. La dolcezza e la gioia traspaiono dai video pubblicati, segno della serenità e felicità che la famiglia sta vivendo. Non ci resta che augurare una lunga e felice vita a questo nuovo nucleo familiare, ricco di amore e momenti indimenticabili con la loro piccola Camilla. Grazie a tutti!